Se nello scorso video siamo andati a caccia di una vittoria reale usando solo un pollo, ed è stata un'impresa alquanto difficile, in questo video proveremo a domare i nuovi dinosauri arrivati con l'ultimo aggiornamento di Fortnite e provare come sempre a ottenere una vittoria reale. Se siete nuovi iscrivetevi, se non lo siete, beh, godetevi il video. Il video di oggi si dividirà in tre fasi, la numero uno, quella di trovare i dinosauri che credo siano in quella zona ma non ne ho la certezza. Seconda fase, addomesticarli. No, noi gli spareremo, forse. Terza fase, portarsi a casa la partita. Ma qualcuno che viene con me? Dinosauri? Nessuno? Va bene. C'è lui? Grande, idolo. Uh, ma c'è pure un lama, vabbè, ma top 10 partite sculate che non ti aspettavi. E quello è un porcello. Raga, sento cose. Intanto prendiamoci il lama. Allora, quindi, Stuk, cesta per noi. Vabbè, ma dove siamo? Nel Valalla, cioè nel senso. Ok, quindi abbiamo spaccato la vita per sempre al lama. Corse clandestine di taglia erba, epico. Saboto tutto, io ti fo quella a destra. Grande, beh, vincerla per noi. C'è pure la tanica. Aspetta che ci facciamo l'arco del fuego. Vabbè, ma è la partita migliore delle partite. Migliori. Eccoli lì, e sono proprio loro. Jurassic Park Simulator. Non mi devono vedere, quindi... Boni. Per addomesticarli, o usate il coso che fa andar via gli animali, avete capito quale, altrimenti... Andate di un piano. No, raga, dovete andare di un piano, che non ne avete idea. Se sono come in Jurassic Park è una figata, ovvero che non ci vedono i dinosauri, ma vanno a suoni. Quindi andate piano, zitti, quatti come dei gatti. Ok, doma, per forza, sei nostro, sei no. No, no, l'aveva andomato. No, stacca tutto, stacca, stacca. Ci stanno ritracciando. Quanti siete? Due. Però quanto forti. Scappo, 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 scappo. Via, 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 via. Vado, c'è lì io dietro che mi inseguono. No, è la fine. È la fucking fine. Mi han sgamato! Mi han sgamato. Vabbè, ma se sono 200 inchiusti i dinosauri. No, c'è pure il tizio. Ah, è quello di prima. Vado, lo dobbiamo picchiare. Oh, non pensate di... Vai, dinosauri, attaccate quello lì. Vai, siamo più forti, cioè, per forza. Cacchio, raga, dobbiamo trovare il coso per non farci sgamare dagli animali. Guardalo qua. Stupido! Allora, gli abbiamo preso la vita. Uh, il pompa bello. Quindi io direi, piano B, quei dinosauri ce li siamo giocati. Palese. C'è la safe, fuck. Beh, speriamo di trovarne altri. Quindi per catturarli, piccolo riassunto, o utilizziamo l'oggetto, quello lì che non ti fa sgamare degli animali. Vabbè, avete capito, in caso vi metto un'immagine. Oppure, quatti, quatti, zitti, zitti, andate lì belli snichi e fate il quadrato. E qua c'è una macchina. Conviene prenderla... Ahia! No, se muoio in safe è tipo che piango in aramaico. Poi vi spiego come si piange in aramaico. C'è pure un medikit. Vabbè, ma è il paradiso questo. No, mi sparano! Ma siete degli schifosi. Ma siete degli schifo... Oh! Quanto mi ha laserato quest'uomo. È ora tocca a me. Schifoso, tocca a me. Sotto. No, mi bruciano. È proprio la fine. È proprio la fine. Scappa in macchina. GTA Simulator. Siamo morti. E invece... Ah. L'abbiamo trovato. Sto giro... Madò, se vengo disarmato... Guarda, vengo... Mani in vista. Non vi voglio far del male. Zitto, che c'è anche un lupo. In caso fate la mega guerra illegale, io scommetto soldi su di voi. Sì, guarda come sculetta. Madò, è la Mickey Minaj dei dinosauri questo. Sì, sì, certo. Manca poco. Ma perché mi sgama se... Sì, vabbè, mi sono spaventato tantissimo. Non vi voglio far del male. Niente, c'è da fare. Mi sgama sempre all'ultimo sti schifosi. Ciao, tizio. Che cacchio di schincia ha questo? Dinosauri di merda! Dinosauri di merda! Grazie a tutti.